Il capoluogo in diretta dal campo base di forme di Massadalbe. Appena è arrivata la comunicazione ufficiale della Prefettura, è stato ritrovato il secondo corpo dei quattro escursionisti dispersi ormai dal 24 gennaio scorso. Siamo qui per seguire tutti gli aggiornamenti. Questa mattina è arrivato il primo risultato, quello del ritrovamento di uno dei primi corpi, poi con la conferma ufficiale da parte dell'ANSA si tratta di quello di Valeria Mella, uno dei quattro dispersi ormai da quasi un mese. Le ricerche sono continuate in queste settimane, incessantemente interrotte soltanto dal maltempo che c'è stato e che ha ostacolato le operazioni dei soccorritori. Questa mattina sono di nuovo saliti in quota ed è stato ritrovato il primo corpo. Proprio pochi minuti fa invece la comunicazione ufficiale del ritrovamento di un secondo corpo. Ovviamente ancora è in corso l'identificazione di questo secondo corpo. Ricordiamo che le operazioni sono continuate per provare a portare a tutta la comunità avezzanese, abruzzese e con il fiato sospeso per tutto questo tempo buone notizie. Gli escursionisti dispersi sono Tonino Durante, Gianmarco Degni, Gian Mauro Frabotta e Valeria Mella. Due, i corpi al momento ritrovati. Decisivo sicuramente l'intervento delle unità cinofili arrivate proprio ieri da Bologna perché, ve l'abbiamo detto anche nelle settimane passate di ricerche, era importante assicurare un ricambio degli stessi, delle unità cinofili impiegate in queste ricerche proprio per evitare che ci fossero problemi, ostacoli e problematiche legate a inquinamenti dell'area di ricerche. Un'area di ricerche che è quella di Valle Maielama ma anche oltre, ricordiamo che si è cercato più a valle fino poi oltre a quella che è l'area di Valle Maielama dove sono state riscontrate tre valanghe in quota fino appunto alla sella del bicchero. Siamo qui dal campo base di forme di massa d'albe per aspettare se dovessero riscendere soccorritori con aggiornamenti, se dovessero arrivare altre informazioni ufficiali dalla prefettura. Al momento l'ultimo aggiornamento, ve lo ricordiamo, è quello del ritrovamento di un secondo corpo, si attende appunto proprio l'identificazione del corpo ritrovato. I cani che sono stati decisivi per il ritrovamento di questi corpi dopo l'utilizzo di molte strumentazioni tecnologiche, lo ricordiamo anche un georadar 3D che aveva dato dei segnali ma nessuna traccia vera e propria, secondo quelle che poi erano state le informazioni ufficiali che erano state fornite alla stampa, sono stati sicuramente utili perché quelli arrivati proprio nella giornata di ieri e saliti in quota quest'oggi per la prima volta sono cani specializzati come ci è stato spiegato da Vigili del Fuoco e Prefettura dell'Aquila nella ricerca dei corpi senza vita. A presto con il capoluogo per altri aggiornamenti qui dal campo base di forme di massa d'albe.